Una delle ragazze ha detto, ma non ci credo, disse a Peroni anche cambio Milano per Napoli. Ho detto va bene, io sì. Adesso come fa? Fai un saluto agli amici rognatori di Radio Rogno. Questo magari lo mettiamo davanti, così si vede solo una privilegie per te. Così ci vieni a trovare qualche volta. Ok, un saluto a tutti gli amici di Radio Rogno, che mi raccomando, va presa con ironia, e con molta filosofia, da night style. Con molta mestizia. Sì, perché chi si offende si dice a Napoli, è fadente, ok? Quindi si ride, si scherza e si gioca. Grazie.